Se la crescita di questo paese quest'anno può puntare all'1% in maniera un po' superiore rispetto alle stime è perché c'è il PNRR. Allora il punto è molto chiaro, i PNRR sono soldi che ci vengono erogati semestralmente e ogni sei mesi dobbiamo fare dei compiti, 50-60 punti in termini di riforme, di investimenti che dobbiamo garantire l'Europa. Il governo Draghi il suo lavoro lo ha fatto bene, adesso noi vogliamo aiutare il governo Meloni a fare bene il suo lavoro. Per esempio forse lo stadio di Firenze non è il caso che sia finanziato con le risorse europee però c'è da fare i dissalatori, gli scolmatori, c'è da intervenire come diciamo noi sul distesso idrogeologico. Noi siamo molto contenti che recependo un nostro emendamento di Italia Viva il governo Meloni abbia detto ripristiniamo Italia Sicura, Casa Italia che il governo Conte aveva cancellato perché se no ogni volta di fronte a un problema di distesso idrogeologico ci troviamo con l'emergenza. Investiamo lì.